Chiara Ferragni ha recentemente condiviso una foto di un romantico tramonto a Capri con la didascalia Vorrei che tu fossi qui, suscitando la curiosità dei suoi fan. Ma chi potrebbe essere il destinatario di questo enigmatico messaggio? L'influencer e imprenditrice è tornata a Milano dopo un weekend a Capri, durante il quale ha pubblicato su Instagram alcuni momenti della sua vacanza. Tra questi ricordi, spicca la foto di un tramonto con la romantica didascalia, che ha fatto scatenare le congetture dei suoi milioni di follower. Chi potrebbe essere la persona a cui è destinato il messaggio, tradotto in italiano con «Vorrei che tu fossi qui». Secondo alcune ipotesi, il messaggio potrebbe essere indirizzato ad Andrea Biciotti, un ortopedico con cui si vocifera Chiara stia frequentando dopo la separazione da Fedez. Durante il weekend di metà giorno a Capri, Chiara Ferragni ha goduto della compagnia del suo partner professionale Angelo Tropea e di alcuni amici, alternando momenti di relax e divertimento. Ha documentato la serata allo storico locale a Nema e Core, seguita da una gita in barca con vista sui faraglioni. Chiara scherza chiamando ironicamente il suo amico Maritino, ma sulla sua vita sentimentale post-Fedez resta ancora molto mistero. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.